Questo pezzo di codice che vedete a schermo serve per calcolare questo numero, ovvero 1 su radice quadrata di un numero. E la storia dietro a quella funzione non è tanto lunga. E tra l'altro, cosa ha a che fare questo codice che calcola questa funzione con questo gioco che vede qua alle mie spalle? Quech3! Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati Pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi porterò un video breve perché, come vi dicevo negli altri miei video, sono impegnato nel fare quella serie di 7 video che mi sta prendendo più tempo del previsto. Anche perché, come sapete, sono stato male. Ma prima di cominciare a capire i segreti di quella funzione che vi dicevo nell'intro, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. E quindi non perdiamo i cinchiacchiere e proseguiamo. In un gioco 3D, uno su radici quadrata di x è un calcolo che viene fatto molto spesso. Cioè, più spesso di quello che possiate pensare. Non vi spiegherò nel dettaglio il motivo per cui serve, però qualcosa ve la dico. In un videogioco ci sono tanti vettori. E quando parlo di vettori non parlo degli array, parlo di vettori dal punto di vista della fisica. Cos'è un vettore dal punto di vista fisico? È una quantità che non può essere espressa mediante un numero. O che comunque un numero non basta per esprimere quella grandezza fisica. L'esempio è la forza. Se io dico che applico 5 newton a un oggetto che si trova sul tavolo, in fisica è importante specificare anche la direzione. Ed è per questo che si usano i vettori. Che se poi tali vettori vengono rappresentati mediante degli array in un linguaggio di programmazione, questo non rende i vettori degli array e viceversa. Anche se comunque molte dicono, ah creiamo un vettore. No, io continuo a usare la parola array. Come sto facendo in questa serie che sto creando. Array è una cosa, vettori sono una cosa. Il fatto che si usa un array per rappresentare un vettore non li rende la stessa cosa. In molti calcoli vettoriali che si fanno in fisica, tipo calcolare l'angolo di incidenza o l'angolo in cui un raggio di luce viene riflesso da una superficie o altre cose che riguardano il rendering grafico, coinvolge quel calcolo di cui vi parlavo all'inizio. Perché in molti calcoli vettoriali che si fanno in fisica i vettori vanno normalizzati. Un vettore normalizzato è un vettore che preserva la direzione, perché quello è sempre importante da preservare in fisica, però riduce la sua lunghezza o quello che viene chiamato in inglese magnitude del vettore a 1. E la normalizzazione di un vettore in un gioco viene fatta migliaia di volte per frame. Ora, quella funzione, in sì, è stata fatta in un periodo in cui non c'erano le GPU moderne. A parte che è stata inventata in un periodo in cui manco c'erano le GPU, ma quando poi sono arrivate le prime schede video, implementavano una pub di rendering, ancora non avevano quello che poi si è successivamente chiamato shader programmabile. E quindi molti dei calcoli che si facevano in un gioco venivano fatte nel processore, che noi sappiamo quanto sia lento. Ovviamente è lento per questi scopi. E quindi, quando bisognava normalizzare un vettore, calcolare 1 su radice di un numero, la funzione SQRT in sì era troppo lenta. Non è che era di fatto lentissima. Diventava lento quanto veniva invocata centinaia e centinaia, se non addirittura migliaia di volte a frame. Anche se parliamo di giochi di 20, 25 anni fa, però comunque dai, almeno un minimo di realismo a 25 frame a secondo lo vogliamo ottenere. La funzione SQRT, cioè quella che si trova in sì, in mat.h, si trova ad essere molto lenta. E quindi qualcuno si è inventato questa funzione, che io non so bene come funziona, o meglio, so come funziona, cioè o meglio, so i passaggi che fa, capisco i passaggi che fa, ma non so dare un significato matematico a quello che succede. Cioè qualcuno ci ha un po' smanettato e ha trovato questa sorta di algoritmo mettendoci questo numero qua, che vedete in esedicimale, che tra l'altro quel numero in esedicimale è un'approssimazione del numero radice di 2 elevato, a quanto c***o era elevato? 127? One eternity later. Sì, radice di 2 elevato a 127. Ricordavo benissimo. Allora, qual è la storia di questa funzione? La storia non è lunga e risale agli anni Ottanta. William Cahan e J.C. Engel, N.G. Engel, non so come si pronuncia, cioè il cognome proprio è N.G., avevano scritto nel 1986 un articolo scientifico che non fu mai pubblicato, in cui parlavano di questo algoritmo. Tuttavia, il numero magico, The Magic Number, ovvero quel numero sedicimale fantasmagorico mozzavidante che vedete qua, è stato, diciamo, trovato, scoperto, non lo so qual è il termine giusto utilizzate, da un certo Greg Walsh della Harden Computer, che poi questo algoritmo arrivò in qualche modo alla 3DFX Interactive, nel circa 94. Per chi non lo savesse, la 3DFX è stata una delle prime aziende, non proprio la prima, ma una delle prime aziende, a produrre schede video per il mercato consumer, quindi noi poveri comuni mortali. E poi questa tecnica fu utilizzata, appunto, per fare il gioco che vede qua alle mie spalle, Quake 3. Tuttavia, questo modo di calcolare l'inverso della radice quadrata di un numero era il segreto di Pulcinella, e infatti, facendo alcune manovre tipo di spionaggio, no, no, non era spionaggio, era quello che si chiama reverse engineering, fu scoperto che variazioni, quindi algoritmi simili a questo, erano presenti anche in altri giochi, addirittura prima dell'uscita di Quake 3 Arena, perché Quake uscì nel 99, ma un algoritmo simile fu trovato anche nel gioco Interstate 76, prodotto dall'Activision, che era uscito due anni prima. Tuttavia, prima di concludere, se voi avete voglia di implementare questo algoritmo con i computer che abbiamo adesso, non perdeteci tempo, perché io l'ho fatto, e a me risulta essere tre volte più lenta rispetto alla funzione SQRT standard DC. Il motivo di questa cosa è perché nel frattempo i processori si sono evoluti, e da quando è stato introdotto in Intel lo extraction set SC, questa funzione non ha più i benefici, perché da quello che ho capito, purtroppo non ho potuto approfondire, e per il motivo che vi ho detto sono immaginato in un'altra serie di video, c'è un'istruzione a livello di processore che già calcola la radice quadrata. L'overd che si aveva nella funzione SQRT standard DC, ormai nei computer moderni, è scomparsa. Però, quando quel algoritmo fu inventato, i vantaggi c'erano. Ed almeno, fino al 99, con Quake 3 Arena, serviva. Questo era il barbatrucco che usarono gli ingegneri del software di all'epoca. E benissimo, Pinguini, spero di avervi intrattenuto anche oggi, scusate questo corto video, ma spero che la vostra pazienza sarà ricompensata con questa serie fighissima, fantasticosa, mozza e fatante che sto preparando. E quindi, io vi ringrazio con un assoluto per avermi ascoltato fino a questo punto, e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, e vi assicuro che la mia serie uscirà molto presto, e che non vi deludere. E quindi, grazie ancora per avermi ascoltato, e ci vediamo alla prossima. Ciao, chilo!